Amici, siete pronti per un nuovo capitolo nella saga di due dei personaggi più discussi del momento? Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, l'ex coppia del grande fratello Vip, sembrano non riuscire proprio a lasciarsi alle spalle. Dopo mesi di silenzio, Donnamaria ha deciso di riaccendere la miccia con un nuovo brano musicale. Ma attenzione, perché questa non è una semplice canzone d'amore. Le parole sembrano colpire nel segno, e molti fan hanno già individuato dei riferimenti piuttosto diretti alla Fiordelisi. La domanda che tutti si pongono è, perché continuare a parlare del passato, soprattutto considerando che entrambi sembrano aver voltato pagina? Eppure, le parole di Donnamaria suonano come un'accusa, un tentativo di ribaltare le responsabilità. Suspense, ma la storia non finisce qui. Mentre i fan di Donnamaria applaudono alla sua sincerità, quelli della Fiordelisi sono pronti a scendere in campo per difenderla. Le accuse di strumentalizzazione e di misoginia volano alte, e la rete si infiamma. E Antonella? Come ha reagito a queste nuove provocazioni? Sorprendentemente, l'ex schermitrice ha mantenuto un profilo basso, non ha risposto alle accuse, ne ha alimentato ulteriormente la polemica. Anzi, ha preferito concentrarsi sul suo percorso e ha ringraziato i suoi fan per il sostegno. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più attenti. In risposta a un commento che la elogiava per la sua crescita personale, Antonella ha lasciato un semplice cuore. Un gesto che, apparentemente innocuo, ha scatenato una nuova ondata di reazioni. Cosa significa questo cuore? È un segnale di indifferenza, o forse di una ferita ancora aperta? Solo il tempo ce lo dirà. Nel frattempo, la battaglia tra i fan delle due ex vippone continua a imperversare sui social. E voi, da che parte state? Diteci la vostra nei commenti. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti.